Sentenza storica nelle scorse ore per la città di Cava dei Tireni e per il completamento del sottovia veicolare, il TAR dà ragione al comune di Cava dei Tireni e quindi a questo punto si abbreviano i tempi per l'apertura ufficiale anche di quel tratto per il momento interdetto. Ma diciamo che non c'è stata di fatto alcuna forma di conflittualità con la sovrintendenza, anzi abbiamo concordato comune sovrintendenza in un lavoro che è durato oltre due anni la strada da seguire. La strada è stata quella del riconoscimento da parte del comune dell'abuso edilizio che di fatto durante la precedente amministrazione si era realizzato, che comportava un progetto presentante una riformità di circa un paio di metri di altezza di queste rampe e la duplicazione delle rampe rispetto al progetto originario non presentato in sovrintendenza. Il comune in passato aveva perso la sospensiva al Consiglio di Stato e quindi ormai la strada sembrava obbligata verso la prospettiva drammatica dell'abbattimento di queste rampe con un dispendio di milioni di euro che sarebbero andati in fumo. Invece con il riconoscimento coraggioso che il comune di Cava ha fatto di questo abuso si è aperta la strada della sanatoria che alla fine ha trovato il pieno accoglimento anche con una sentenza breve del Tar Salerno. Siamo sicuri che la sovrintendenza a questo punto ci darà le prescrizioni che il Tar ha invocato e pedissequamente applicando queste prescrizioni finalmente originario non presentato in sovrintendenza. Il comune in passato aveva perso la sospensiva al Consiglio di Stato e quindi ormai la strada sembrava obbligata verso la prospettiva drammatica dell'abbattimento di queste rampe con un dispendio di milioni di euro che sarebbero andati in fumo. Invece con il riconoscimento coraggioso che il comune di Cava ha fatto di questo abuso si è aperta la strada della sanatoria che alla fine ha trovato il pieno accoglimento anche con una sentenza breve del Tar Salerno. Siamo sicuri che la sovrintendenza a questo punto ci darà le prescrizioni che il Tar ha invocato e pedissequamente applicando queste prescrizioni finalmente porremo la parola fine a questa vicenda che da più di cinque anni blocca l'utilizzo di queste rampe. Per cui ci stiamo avviando ormai verso il completamento dell'opera con la conclusione anche del sottovia e potremo quindi mi auguro a breve inaugurare l'intera opera non solo con il sottovia ma anche con l'apertura delle rampe che conducano fino al bivio per Rotolo e per tutte le altre frazioni bellissime di Cava dei Terreni che saranno quindi più facilmente raggiungibili direttamente dal bivio che si realizzerà ad altezza della Tengana.